Bambole di pezza, yo-yo, pupazzi di stoffa e poi salto con la corda, tiro al bersaglio e corse con i sacchi. Sono questi i giochi di un tempo che i bambini delle scuole elementari hanno sperimentato nel padiglione Città dei Bimbi della Fiera del Levante. Un progetto che nasce dall'idea di far conoscere alle nuove generazioni la semplicità dei passatempi di una volta. I piccoli sono stati anche guidati nella costruzione dei pupazzi del passato in veri e propri laboratori artigianali del giocattolo. Un'occasione dunque per riavvicinare due generazioni così diverse, per mostrare ai bambini un'alternativa altrettanto divertente alla tecnologia. I bambini sono molto rapiti e soprattutto coinvolti dai giochi del passato perché con pochissimi stracci, con materiali di riciclo, con giocattoli vecchi andiamo a realizzare una serie di attività. Grazie. 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 Grazie.